Oggi ci troviamo all'Istituto Falcone a Gazzaldo di Ippoliti dove abbiamo presentato il progetto Gazzetta MN Reviews, diamo la possibilità ai ragazzi e agli studenti di mettersi alla prova con delle recensioni in modo che siano loro i giornalisti, giornalisti per la pagina Facebook innanzitutto e poi per sfruttare lo spazio che la Gazzetta mette a disposizione sul giornale nella pagina della settimana, l'inserto settimanale del sabato dedicata ai social network. Con il professore Gazzaldo quindi è nata un'altra idea ancora più interessante e stimolante, dedicare questa pagina agli studenti, una vetrina reale con il brand di Gazzetta che possa mettere in contatto i ragazzi con il pubblico. La cosa più importante di Gazzetta MN Reviews è far passare, far trasmettere il vostro punto di vista oltre la vostra accettura di amici. Essere giornalisti oggi poi vuol dire essere sempre sotto il fuoco delle critiche di tutti, ma avere qualcuno che media, che studia per poter mediare, che cerca di far passare un'informazione corretta, e questo è il vero compito del giornalista, è quello che dovrebbe passare. È sempre più difficile perché siamo sempre meno, come vi dicevo, l'importante è che resista.